Un saluto a tutti quanti. Oggi ho un articolo molto interessante per voi. È di un paio di settimane fa e posso garantirvi che ancora nessuno ha parlato di questo ed è veramente sorprendente perché smantella totalmente la teoria dell'evoluzione dell'universo e anche quelle di Einstein. Iniziamo. C'è stata molta agitazione quando gli scienziati hanno assistito alla violenta collisione di due stelle massicce ultradense lontane più di 100 milioni di anni luce dalla Terra all'inizio dell'anno. Non solo, hanno catturato il risultato delle onde gravitazionali, remiti nella struttura dello spazio-tempo. Hanno visto anche un lampo di luce praticamente istantaneo. Questo di per sé è eccitante ed è stata la prima prova diretta di una fusione di neutroni di stelle. Ma dal punto di vista cosmologico il photo finish delle onde gravitazionali e il bagliore di luce hanno distrutto in un solo colpo anni di ricerche su un problema totalmente non correlato perché l'espansione dell'universo accedera. Ecco il concetto molto bello fatto da un artista in rendering. Falso, ma continuiamo. Si scopre così che lo spazio del tempo sono in realtà mutevoli, flessibili, pieghevoli e sinuosi anziché costanti, fissi o immobile. Einstein aveva parlato di costante cosmologica per far sì che la sua teoria della relatività potesse funzionare, aveva bisogno della costante cosmologica. Sotto trovate l'originale del video Relativity or no Relativity. Guardate quello che dice sulle onde gravitazionali e la meccanica quantistica che sono pieni di buchi. Prosegue con questo è noto da quando Einstein pubblicò la sua teoria della relatività generale che spiega come la gravità deformi lo spazio-tempo. Questi sottili effetti che causano questa mutevolezza si devono tenere conto anche per il GPS Ground Positioning System che fa funzionare il navigatore satellitare l'iPhone. Una previsione della teoria di Einstein era che per lo spazio-tempo era possibile avere onde come sulla superficie del mare. Questi sarebbero visibili se si potesse ad esempio far scontrare due buchi neri. Questa predizione è stata vista nel primo rilevamento delle onde gravitazionali dall'esperimento LIGO nel 2015. La scoperta ha aperto un modo completamente nuovo di sondare il cosmo ed è stato insegnato del premio Nobel per la fisica. Il nuovo rivelamento delle onde gravitazionali dalla fusione di neutroni delle stelle ha inoltre profonde implicazioni per la nostra comprensione dell'universo. Comunque per i cosmologi il lampo di soli 1,7 secondi dopo le onde gravitazionali è stata l'osservazione più affascinante. Il ritardo di 1,7 secondi è importante perché significa che le onde gravitazionali e le onde luminose hanno viaggiato quasi alla stessa velocità. Infatti si tratta delle due velocità osservate più brevi tra loro. Le due differivano solo di una parte su 10 milioni di miliardi. Rispetto alle migliori misurazioni che i cosmologi potevano aver sperato per il futuro questo è un fattore di un milione di miliardi di volte superiore. Il fatto è che se le onde elettromagnetiche possono aver richiesto un po' di tempo per sfuggire al tumulto della collisione dei neutroni delle stelle a tutti gli effetti porta un risultato pari a una differenza zero. Ora questo è quello che diventa veramente interessante, questo vi piacerà. La cosmologia è in difficoltà. Abbiamo un grande modello che può spiegare l'evoluzione dell'universo da una frazione di secondo prima del Big Bang. Il Big Bang non è mai venuto prima, adesso dopo 14 miliardi di anni. Il problema è che per spiegare tutte le osservazioni ai modelli deve essere aggiunta un'energia misteriosa chiamata energia oscura. Ora diventa interessante perché Einstein ha dovuto eliminare l'etere a causa della sua teoria della gravità della Terra che ruota e la relatività in generale. Egli ha dovuto toglierlo. Ora l'energia oscura non sanno che cos'è ed hanno dovuto inserire delle equazioni. Hanno aggiunto equazioni dopo equazioni alle equazioni, cercando di spiegare qualcosa di cui non avevano alcun indizio su cosa stavano facendo. L'energia oscura è un problema enorme, rappresenta circa il 70% di tutta l'energia nell'universo e non abbiamo assolutamente idea di cosa sia. L'energia oscura è come un effetto antigravitazionale che allontana l'universo facendo accelerare la sua espansione. Quindi per spiegare l'energia oscura i cosmologi hanno tentato di cambiare, o sostituire la teoria di Einstein per vedere se una nuova teoria dello spazio-tempo potesse finalmente spiegare gli effetti dell'energia oscura. Vanno ad alterare la teoria di Einstein per inserire qualcos'altro perché Einstein ha sbagliato per tutto il maledetto tempo e se qualcuno ha studiato qualcosa ed ha fatto qualche tipo di ingegneria sa già che la teoria di Einstein è stata smontata anni fa. La gravità è il semplice strumento per gli scienziati per dire non ho alcun maledetto indizio, l'ha fatto la gravità, la gravità ha fatto quello, l'evoluzione ha fatto questo. Fondamentalmente è il modo per dire se fate delle domande chiudete il becco, non voglio rispondere perché l'ha fatto la gravità, non vogliono che pensiate da soli. Un modo per cui i cosmologi hanno cercato di farlo era di cambiare la velocità a cui viaggiavano le onde gravitazionali e la luce. C'erano molte teorie diverse che avevano questo componente, ognuna con un nome particolare come Quartic e Quinting Galileons, teorie vettoriali di tensione, teorie generali di Proca, teorie sulla bigravità e via di seguito. Senza dati nessuna delle teorie avrebbe potuto essere corretta. Ogni teoria in cui volevano credere poteva essere corretta. Possono letteralmente raccontarvi una menzogna e buttarvela come teoria e un sacco di gente in realtà crede alle proprie teorie, come la teoria del big bang e di tutta la cosmologia dell'evoluzione dell'intero universo. E c'erano molte persone con la speranza di poter essere i prossimi Einstein o Newton. Einstein e Newton sono stati tutte e due figure simboliche e non fate domande su altre teorie. Hanno piantato le loro teorie. Dovete sapere che c'è stato un uomo di nome Ernst Mach che credeva nella relatività generale, il quale ha detto riguardo alla Terra che non c'è differenza fra una Terra che ruota o che è stazionaria o se l'universo ruota intorno a noi. Questo sarebbe l'effetto dell'etere, quella che Einstein ha voluto sbarazzarsi per inserire la teoria di cui avevano bisogno chiamata energia oscura che è stata smontata ed ora escono con nuove teorie. Ma allora perché non tornare all'etere? Perché non mettere questa dentro alla teoria? Non vogliono perché questo abbatterebbe le loro teorie sull'evoluzione dell'universo che è stato creato e si sbarazzerebbe della teoria del big bang? Perché se buttassero via la teoria del big bang questo innescherebbe il pensiero che potrebbe essere stato Dio. Dove siamo adesso? Ma ora in un'unica osservazione da una singola fusione di neutroni di stelle un'ampia varietà di questi in questo momento è stata gettata nella pattumiera cosmologica in una raffica di carte. Qui, 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 qui e qui. Pertanto non c'è ancora nessun nuovo Einstein, quindi ancora nessun nuovo Einstein perché Einstein era una figura simbolica. In assenza di dati convincenti è ancora possibile che possiamo aggiornare Einstein in modo da poter tenere conto dell'energia oscura. Quindi possiamo aggiornare Einstein per trovare ancora un modo per farvi credere che la teoria di Einstein era corretta anche se non è corretta ed è stata smantellata. Basta aggiungere altra cacca alla sua teoria per farvi credere che Einstein, il simbolo, ha ancora legittimità. La meravigliosa scienza che non abbiamo. Ma le oscillazioni dai dati delle onde gravitazionali hanno lasciato veramente poco spazio. Tutte le teorie che sono sopravvissute alla potatura sono molto più semplici di quelle che erano consentite prima e la teoria più semplice, la capofila, è che l'energia oscura è l'energia dello spazio vuoto e succede di avere solo il valore che si osserva. Quindi ancora una volta la teoria di Einstein continuerà ad essere smantellata negli anni. Nessuno sentirà nulla di questo e nessuno lo saprà. Tutti quanti staranno in silenzio. Chissà cosa pensate voi e come la chiamerete. La teoria dell'incantesimo la chiamerete o della braccadabra? Quale teoria nel mondo o nell'intero universo chiamerete teoria da aggiungere alla teoria già smantellata di Einstein? Ricordate di mettere il mi piace e di sottoscrivere. Grazie a tutti.